andiamo a las vegas nell'hotel a 5 stars ma qual'hotel a 5 stars ma avete capito che tutto obbundello noi ci potremmo permettere solo open in caputadella e coppoli di mappadella e basta e noi potremmo avere solo il binocchio sempre se il binocchio sta a buon brezzo e ci potremmo permettere che questo è la vita e basta